la parola del sudietro e lei non lo sa invece non lo sa proprio qua guardi su una lettera e poi non voce molto ma questa è un po' non è quello che è iniziativo poi non ci va una mossa come la mia tristina no no un progetto e se ne vuoi se ne vuoi youtube youtube e l'altro signore e signore siamo in una palestra tututututu casa buffa nei poni qua si danno i cazzotti allora questo in pila oh 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 adesso la ricerca si dice no no io ti posso andare lì allora tu riesci a capire che sul camera non ti può andare lì ma non ti può andare però eh signore e signore c'è sempre la discussione di pesos e di cardiffos di cardiffos no 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 Fai curirmelo, perché devi tutto so' ammazzare una roba, vai ma? YouTube è sì sì sono 40 video già interiti